Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess, io sono Erika, siamo di nuovo al Mobile World Congress 2017 e ci troviamo in particolare al coloratissimo stand di Lenovo. Siamo venuti a vedere i nuovi smartphone presentati da Lenovo in occasione appunto della fiera di Barcellona che sono Moto G5 e Moto G5 Plus. Adesso se la mia operatrice gentilissima, si è propinqua. Hai mai avuto un'operatrice così zia? Di pregio no. Questo è il più piccolo quindi è Moto G5, il display è da 5 pollici, full HD, è realizzato interamente in metallo perché Lenovo guarda come riflette bene il metallo. Lenovo ha fatto una ricerca e ha stabilito che ai consumatori la plastica non piace e quindi era molto meglio il metallo. Il processore è uno Snapdragon 430 Octa-Core da 1,4 GHz. Non si legge niente, volevo inquadrare le... Ma le so io, non ti preoccupare. Ci sono 2 GB di RAM al suo interno, 16 GB di memoria interna, quindi... Niente, scherzati. Volevo dire, quindi il telefono è abbastanza veloce e non vi accorgerete che è un telefono che ha un prezzo di 199 euro perché si comporta davvero bene, davvero bene. Va come va veloce. Va come va veloce nello scorrimento delle news di sport di cui ci interessa relativamente poco ma questo è un dettaglio. La fotocamera invece ovviamente frontale e posteriore. Posteriore è questa cosa qui. Ti piace? Sì. È una fotocamera da 13 megapixel con autofocus e l'apertura è FF 2.0 mentre davanti, qua, abbiamo una fantastica fotocamera da 5 megapixel con apertura 2.2 per farsi dei selfie bellissimi. In più abbiamo il lettore di impronte per garantire una maggiore sicurezza quindi anche se vi rubano il telefono non riescono a sbloccarlo. Quindi se Fiona vi ruba il telefono per mettere dei like su Instagram non lo può fare, questa cosa è bellissima. Passiamo ora al fratello maggiore G5 Plus. Quali sono le differenze? Boh, tu non sai mai niente. Imprimisi il display, questa volta è da 5,2 pollici, la risoluzione è sempre Full HD. Il processore cambia, è uno Snapdragon 625. Quello, lo sapete? Eh sì, certo. La RAM in questo caso è da 3 giga mentre la memoria interna è da 32 gigabyte. Come vedete è realizzato sempre in metallo, i tasti sono posizionati nello stesso identico posto, quindi a lato abbiamo l'accensione e spegnimento, il bilanciere del volume. Io avrei detto accensione e spegnizione. Perdonami, ho sbagliato il termine tecnico. Mentre sopra abbiamo lo slot per inserire la sim, il lato qui invece è totalmente vuoto, sbarluccica un sacco perché la colorazione è dorata. Invece sotto abbiamo il jack per le cuffie e il connettore per la ricarica. E la fotocamera? La fotocamera in questo caso è da 12 megapixel. È questa cosa qui, guarda che meraviglia. È da 12 megapixel con autofocus. La particolarità, ci ha raccontato Lenovo, è che è super veloce questo autofocus. Quindi riuscite a mettere a fuoco qualsiasi cosa in veramente pochissimi millesimi di secondo. Segui tutto, segui tutto, segui tutto. È tutto a fuoco. Facciamo dello stalking. Anche questo signore di fronte a te. Vai, vai, stoccherizzalo. Stoccherizzo? Sì. Tutti a fuoco, va bene. Facceli vedere uno di fianco all'altro. Ok, come vedete quindi il Moto G5 è leggermente più piccolo, visto che il display è 0,2 pollici in meno. Però in realtà alla pratica sono praticamente identici. Il Moto G5 arriverà in Italia a 199 euro, sarà un'esclusiva di Team. Mentre il Moto G5 Plus sarà venduto a 299 euro. Dallo stand di Lenovo è tutto. Adesso saluto Fiona di andare a montare tutti questi bellissimi video. Fiona la schiavizzo e la mando a fare delle interviste. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!